Da Roma un saluto a tutti, siamo qui per il Consiglio Generale, insieme al gruppo dirigente nazionale dobbiamo analizzare le proposte della finanziaria e quindi decidere la mobilizzazione della categoria. Però oggi volevo ricordarvi la trasmissione che c'è stasera su TRC, parleremo della sicurezza con la rappresentante della Questura, poi con l'arina della nostra segreteria parleremo del proselitismo, dell'iniziativa che abbiamo fatto e infine una mia dichiarazione sui diritti universali che ha 70 anni dalla firma. Buona visione a tutti!